8 febbraio giovedì, buongiorno, benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia Donato Mignogna. Il nostro notiziario inizia parlando di Palazzo Daimmo perché le modifiche allo statuto approvate a questa grande maggioranza dal Consiglio regionale aumentano a 32 il numero complessivo dell'organico, determinano un consistente incremento dei costi della politica e non sono in linea con il decreto Monti che invece aveva fissato a 20 il numero massimo dei consiglieri regionali. Sentiamo in proposito il commento di Giovanni Minicozzi. L'ennesima pagina nera, speriamo l'ultima, è stata scritta dal Consiglio regionale che ha modificato in seconda lettura e quindi in via definitiva lo statuto, elevando da 4 a 5 il numero massimo degli assessori e istituendo la figura del sottosegretario alla Presidenza della Giunta a partire dalla prossima legislatura. La modifica è stata approvata a stragrande maggioranza dal centro-sinistra e dal centro-destra, con le sole eccezioni dei consiglieri Massimiliano Scarabbeo, Francesco Totaro e Patrizia Manzo, che hanno votato contro, mentre Antonio Federico era assente in precedenza. La maggioranza che sostiene Paolo Frattura insieme a Vincenzo Niro nella nuova legge elettorale approvarono la norma che prevede il consigliere supplente per sostituire gli eletti chiamati a ricoprire l'incarico di assessore. Come si ricorderà, il Decreto Monti sulla riduzione dei costi della politica, entrato in vigore nell'anno 2012 e mai abrogato, prevede per il Molise un numero massimo di consiglieri regionali pari a 20 più il Presidente e fissa a un quinto degli eletti il numero massimo degli assessori. In sostanza, 21 eletti con il Presidente diviso 5 determina il numero massimo di assessori in 4,2 che evidentemente non può essere arrotondato a 5, come invece ha deciso il Consiglio regionale con la modifica dello Statuto. Sommando tutto, viene fuori un totale di personale politico impegnato nella Regione Molise di 32 unità, calpestando in tal modo la normativa del citato Decreto Monti che fissava in 20 consiglieri eletti più il Presidente, l'organico totale dell'istituzione regione con gli assessori interni. A partire dalla prossima e imminente nuova legislatura invece ci saranno 20 consiglieri eletti più il Presidente più 5 assessori più 5 consiglieri supplenti per sostituire gli eletti chiamati a svolgere la funzione di assessore più il sottosegretario. Totale 32. Insomma, una grande abbuffata proprio mentre i molisani sono stati ridotti alla canna del gas. Peraltro in tal modo il Decreto Monti sui tagli ai costi della politica è stato trasformato in carta igienica e il tutto è accaduto nel silenzio pressoché totale dei molisani, dei sedicenti intellettuali e di parte della stessa stampa sempre più appiattita sul potere politico dominante. Ma tant'è, le grandi preoccupazioni e le analisi profonde espresse in campagna elettorale dai politici sulla disaffezione al voto dei cittadini non servono a niente se costoro non si rendono conto che le persone si allontanano dalle istituzioni e dalla politica anche per effetto delle scelte stravaganti ed egoiste imposte a colpi di maggioranza. Insomma, è la politica stessa che alimenta l'antipolitica e dunque chi è causa del suo male pianga se stesso. E restiamo in consiglio regionale perché sullo scioglimento della società autostrade del Molise è intervenuto il consigliere regionale Massimiliano Scarabbeo. Se i rami secchi devono essere tagliati, ha detto, lo si faccia con cognizione di causa evitando di subire risarcimento come potrebbe accadere con l'azzeramento della società. Personalmente, ha continuato Scarabbeo, sono favorevole alla sua dismissione ma condivido l'idea del consigliere Di Pietro che ha voluto mettere in guardia la regione da possibili rivalze a carico delle casse di quest'ultima. Secondo Massimiliano Scarabbeo, Frattura farebbe bene a chiedere un tavolo di confronto tra regione, ministero e ANAS sulla messa in liquidazione della società. Un protocollo d'intesa che congeli la concessione e lo stesso consiglio di amministrazione della società autostrade, così da non far gravare i costi sulle casse regionali, ha concluso Massimiliano Scarabbeo. Cambiamo argomento, la situazione di degrado e abbandono in cui si trova da anni l'ex hotel Roxy di Campobasso è tornata nuovamente all'attenzione del Consiglio Comunale. I consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno presentato una mozione con la quale chiedono interventi urgenti per la bonifica dell'intera area. Ce ne parla in questo servizio Anna Maria Di Matteo. Torna di attualità a fase alterna la situazione in cui si trova l'ex hotel Roxy di Campobasso e sono sempre i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle a portare all'attenzione della politica le condizioni di gravissimo degrado e abbandono in cui si trova ormai da anni l'edificio. Così il problema è stato riproposto ancora una volta all'attenzione del Consiglio Comunale con una mozione presentata dal gruppo consigliare. Sotto gli occhi di tutti la situazione che esiste nell'area dell'ex Roxy purtroppo è una situazione di grave degrado. La città di Campobasso sta aspettando degli interventi da parte della regione su quell'area che è interessata a grossi progetti di riqualificazione per eventualmente la ricostruzione della nuova sede della regione. Tutti i grandi progetti faraonici che abbiamo visto arenarsi e cadere nel vuoto. Sta di fatto che istante questo nulla cosmico che su questa vicenda resta un edificio che presenta dei gravi problemi di decoro ma anche di sicurezza. Purtroppo c'è una recensione precaria che spesso viene meno. È stata incendiata, abbiamo visto degli incendi quindi anche un rischio delle persone che magari vi pernottavano all'interno e oltre poi all'aspetto del decoro urbano perché vedere quella situazione in piazza Savoia che è una delle piazze principali della città non è certamente edificante per la città di Campobasso. Chiediamo pertanto che l'amministrazione in quanto sovrana per quanto riguarda gli aspetti del decoro urbano sul territorio cittadino si faccia promotrice nei confronti della regione affinché la regione appunto o metta in sicurezza completamente l'area o perché no provveda entro un lasso di tempo a prevedere comunque l'abbattimento. Tanto tutti sanno che quell'edificio dovrà prima o poi essere abbattuto. A questo punto si proceda nelle more poi di futuri sviluppi relativi alla edificazione di nuovi edifici. In conferenza Stato-Città il Ministero dell'Interno ha dato il via libera alla proroga al 31 marzo per i comuni dei termini per approvare il bilancio di previsione 2018 precedentemente fissati al 28 febbraio. Ringrazio il Ministro, ha commentato il Presidente del Lanci Molise, Pompilio Sciulli. Questa proroga consentirà un più ordinato processo di approvazione dei bilanci nel rispetto dei rinnovati principi contabili introdotti dalla legge e nell'interesse delle comunità amministrate. Bene, con questa notizia ci fermiamo almeno per quanto riguarda la nostra informazione. Adesso la rassegna stampa. Iniziamo con il giornale del Molise.it. In apertura un editoriale del nostro direttore Emanuela Petescia, il caso Bari e la verità secondo Frattura. Iniziamo con un virgolettato, io il giorno dopo faccio partire l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e lo sbatto a giudizio immediato il dottore Paolo Di Laura Frattura. Che Paolo Frattura non dica mai la verità è cosa che ho già detto, scritto e ripetuto e lo ribadirò fino all'ultimo giorno della mia vita. L'articolo chiaramente continuo. Vediamo le altre notizie. Molise acque tra debiti e inchieste da Campomarino. Invece c'è la cronaca. I carabinieri sequestrano 13 kg di droga con una persona arrestata. Si parla anche di Riclarte, un progetto per realizzare i monumenti di Isernia con materiali di recupero. Altre notizie. Esperimenta Molise, la regione esclude dal finanziamento il prestigioso sito di Monte Vairano. E adesso a Larino, dove continua la polemica sull'idea di aprire una scuola, tra virgolette, speciale nel centro Frentano. C'è una nota da parte del comune. Anche, vedete, c'è la cronaca da Carpinone, droga nascosta nell'auto, studente Isernino finisce nei guai. Diversi richiami. Giornata mondiale della sicurezza informatica. Si è celebrata la polizia postale. Ha incontrato gli studenti. In basso la sezione editoriali idee e opinioni. Le notizie dalla regione e dall'Italia. Aperture diverse oggi per i quotidiani locali edicola. Iniziamo con primo piano. Accoglienza migranti. C'è pagna. Alza le barricate. La cooperativa che gestisce lo Sprar del comune di Venafro ha individuato una sede nella frazione per il collocamento di 60 ospiti residenti in Subbuio. Tanto domenica assemblea in piazza, pronti a bloccare la statale. L'amministrazione intanto prova a trattare sui numeri. Le altre notizie. Restiamo sulla cronaca. Blitz dell'arma sulla costa. 55 anni in manette. Sequestrati. 13 chili di droga. Oggi il briefing dei carabinieri per i dettagli. Le notizie sotto la testata. C'è la politica. Lo vedete. Laura Venitelli punta sul voto intelligente. Poi c'è lo slogan. Liscia e gassata. Dall'altra parte nel centro-destra regionali. Ci espugli in attesa di un segnale. Le altre notizie. Un focus. Scuola pioggia di milioni sui Sernia. Intanto l'Unimol prende tempo sullo studio di vulnerabilità. Le altre notizie. Richiami. Siamo di spalla. Termoli da di matto in commistariato e viene arrestato. A Sepino. Strada franata da mesi. Famiglie isolate ed esasperate. Andiamo a Termoli. Adesso Fiat. La Fim ci crede e dice ci sono buone prospettive. Adesso la vicenda della cosiddetta classe speciale. Il sindaco di Larino. Notarangelo difende la comunità. Dice Larino non è una città razzista in classe senza disabili e neri. di questa era. Almeno si parla di questa proposta ma non ci sono al momento conferme. In basso. I Sernia mangia peperoncino ed è Guinness. Uno sguardo adesso al mondo dello sport. Il doppio ex Paris. Si dice non sarà un derby spettacolare. Parla una vecchia conoscenza del Campobasso e dell'Agnonese. La gente FIFA aggiunge il pubblico non faccia scappare. De Lucia. Tanto da Campobasso Carbo brucia le tappe per il rientro. La società svela il piano marketing. Ci spostiamo ad Agnone. Cena tra tecnici e dirigenti per progettare il colpo. Cassese recupera. Dicevamo dunque aperture diverse. Il quotidiano punta sull'arresto sul sequestro di droga a Termoli. Puscher arrestato con 13 chili di droga. Cocaina, hashish e marijuana. Pronti per essere piazzati sul mercato della costa. Oggi i dettagli in una conferenza stampa. In alto scuola parlano i genitori tacciati di razzismo e dice siamo stati fraintesi. Siamo all'arino. Abbiamo chiesto solo l'istituzione di una paritaria. Intanto oggi alle 18 in programma una assemblea. A centropagina sanità rinnovo dei contratti confronto tra la giunta regionale e i sindacati. Chiesto l'impegno appunto della regione. E c'è a centropagina questo richiamo. Gli ex ITR, gli ex lavoratori ITR hanno ringraziato il giudice Di Giacomo per l'impegno pagati dopo il suo interessamento hanno detto. A diserni a scuole sicure il sindaco da Pollonio ha reso noti gli interventi in programma. Per la politica Palmieri giusto abolire le tasse universitarie. Poi aggiunge la proposta di Grasso è concreta. Nel centro-destra ieri sera all'incontro i sovranisti chiedono a Pietracupa di mediare. Sicurezza, videoserveglianza si parte anche a Campomarino. Ieri la presentazione in basso invece c'è il calcio, quello di serie D. Campobasso proseguono i lavori di adeguamento del Selva Piana. In eccellenza, Vasto Girardi, il prossimo avversario di Coppa è il Giulianova. Torniamo sul web, lo facciamo con futuro Molise. Si parla dello scioglimento della società autostrade del Molise perché ieri c'è stato un intervento del consigliere Scarabeo. Tagliamo i rami secchi ma evitiamo possibili danni economici a carico della regione. ha detto. ITR e gli ex lavoratori ringraziano pubblicamente Enzo Di Giacomo. Solo con il suo interessamento hanno detto è stato possibile il pagamento delle competenze arretrate. Si parla anche della relazione semestrale della DIA. Il Molise risulta permeabile agli interessi dei sodalizi mafiosi. Questo è quanto ha detto la direzione investigativa antimafia. Finanziamenti alle scuole da Pollonio. Circa 8 milioni per Isernia. Vedete in basso le notizie di attualità. C'è anche qui il richiamo sull'intervento degli ex lavoratori di ITR. A Termoli invece il Carnivale in piazza con le maschere, i carri e il Carnival Village. Vedete ancora diversi richiami. In basso c'è la sezione politica e tante altre notizie. Dalla stampa regionale a quella nazionale. Oggi i quotidiani si occupano molto di politica estera, focalizzando l'attenzione sulla Germania. Il titolo di apertura del Corriere della Sera è questo. Merkel cede sì al governo. L'accordo sulla grande coalizione è sottoposto alla consultazione tra i socialdemocratici. Intanto le finanze, il Ministero delle Finanze e i ministri forti all'Espede vanno all'Espede. Schulz, fine del diktat dell'austerità. A centro pagina la politica nostrana. Berlusconi e Salvini al duello sul condono. Si va verso il voto. Intanto Renzi ironizza il Movimento 5 Stelle attacca due proposte non diverse e non condivise quelle di Berlusconi e Salvini. Passiamo a Repubblica che pubblica questa foto di una sequenza della Merkel. Il titolo è Berlino in Corona Angela IV. Ma i ministri forti vanno all'Espede. La cancilla Merkel guida la Germania dal 2005. No ai razzisti spaccano il paese, parla il ministro Miniti, che chi giustifica Traini minaccia la democrazia, detto. Intanto annullata la manifestazione dei partigiani a Macerata. Berlusconi show via libera alla costruzione di case senza licenza, è quanto leggiamo nel sommario. Salvini lo boccia, basta edifici abusivi. Dalla Repubblica alla stampa, che apre con questo titolo, cresce il numero dei comuni che accolgono gli immigrati. Nel 2017 oltre 1.300 centri in più rispetto all'anno precedente. Ma il 60% dei municipi continua a non averne. Intanto lo sparatore di marcerata in carcere tra gli applausi degli altri detenuti. Anche qui la politica estera con questa foto di Merkel e Schulz. Dalla stampa, adesso uno sguardo al Fatto Quotidiano. Inquisiti in lista. Centrodestra batte PD e soci. 41 a 30. Sarebbero 76 impresentabili secondo il Fatto Quotidiano. Dunque, ancora una volta, le liste elettorali non sono pulite e i Dem, il PD, non hanno nulla da invidiare alla squadra di Berlusconi. Chiudiamo anche il Fatto Quotidiano. Uno sguardo adesso al messaggero. Germania, addio all'austerity. La Merkel vara il governo di grande coalizione. Ai socialdemocratici vanno gli esteri, finanze e lavoro. A centropagina c'è questa notizia. Cure per l'Alzheimer gratuite per tutti. Svolta in Cassazione. I giudici dicono l'assistenza a carico dello Stato anche per i redditi alti e parte la class action. Dalla messaggero a Libero, che punta su Sanremo, ma vediamo perché, che umilia la politica. In sostanza Fiorello è la Unzinger più seguiti dei partiti. C'è qualcosa che tiene ancora unita l'Italia. Il festival supera il 52% di ascolti, come non accadeva da 13 anni. Al solito le canzonette sono banali, però gli artisti sul palco sono più credibili della nostra classe. Dirigente scrive Libero. Il Sole 24 Ore. Team avvia il progetto di separazione della rete. Al CDA del 6 marzo la proposta per una nuova società controllata al 100%. Parla il ministro Calenda e dice che è un dato epocale. In borsa il titolo vola a più 6%. Proseguiamo con avvenire. Anche qui c'è la politica estera. La grande coalizione punta a cambiare l'Unione Europea. In Germania è Merkel 4. La SPD esteri e finanze. E altre notizie. Berlusconi condona. La Lega non lo perdona. Il Cavaliere propone una sanatoria edilizia. Intanto nel Movimento 5 Stelle il caso dei rimborsi a Strasburgo. Dall'avvenire al manifesto. Titolo secco, come avviene spesso. Retromarcia. Vediamo perché. Si parla della manifestazione nazionale antifascista organizzata sabato a Macerata e poi è stata annullata. Associazione Partigiani, CGL, Arci e Libera cedono alle pressioni del sindaco, PD e del governo. Saremo in piazza a Roma il 24 febbraio, hanno detto. I neofascisti confermano invece loro marce. Il presidio sarà solo dei centri sociali. Si parla anche di uranio impoverito, inadeguate le norme di sicurezza dei soldati. Questo è quando emerso dalla commissione di inchiesta. Dal manifesto al mattino di Napoli. Anche qui c'è la politica ma soprattutto c'è questa notizia di cronaca. Agguato in auto, uccisi due camorristi. Siamo a Miano, nella zona di Napoli Nord. I clan tornano a colpire nella faida per l'area di Napoli Nord. Dal mattino, adesso al tempo, la Casa delle Libertà. Berlusconi rilancia il condono e dice che chi deve costruire inizi senza aspettare la licenza. Con fedelizia per il tempo, dice partito per partito, chi davvero crede nella ripresa immobiliare. Chiudiamo il quotidiano della Capitale. Andiamo sulla verità, con un'apertura diversa rispetto ad altri giornali. Telefonate a prezzo scontato, ma soltanto per gli stranieri. E poi aggiunge, si parla di razzismo del cellulare. Vediamo perché. Tim, Vodafone e Wind praticano tariffe differenti a chi è nato qui e agli immigrati. Per i secondi fioccano le agevolazioni, prezzi più bassi e gigabyte extra. Aperti siti ad hoc in cinese e in romeno. Dalla verità al secolo d'Italia. Grande foto di Meloni. Si parla di certezza. Il titolo è Certezza della pena. L'approfondimento sulla vicenda, triste e tragica vicenda, di Pamela Mastropietro. In basso vedete alcuni richiami di politica. E adesso lo sport sulla Gazzetta. Vediamo in apertura sulla prima cosa c'è. Si parla delle Olimpiade Invernali. La sfida di Malagò, dieci podi azzurri. Dunque il presidente del CONI aggiunge, dice Nadia Franchini, il nostro simbolo. E poi c'è il calcio. Vediamo, parla Ronaldo, il fenomeno tra campionato e mercato. Dice no, Scudetto Juve, tifo nero-azzurro. Icardi sta bene all'Inter, ma il Real. Dunque si parla, continua a parlare dell'interesse del Real. Bene, come sempre con la Gazzetta dello Sport terminiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata alle 14, la seconda edizione del TG. Arrivederci.